Siamo molto orgogliosi di tutta la risposta che c'è stata sia dalle farmacie, sia dall'Asle, sia da Hauser, sia da ERA e Last Minute Market che in prima battuta ha ideato questo progetto che sostanzialmente, come diceva lei, mette insieme il fatto di non sprecare, recuperare le cose e soprattutto aiutare chi ne ha bisogno con le modalità adeguate, quindi attraverso medici che prescriveranno questi farmaci che potranno essere recuperati solo se consegnati in confezione integra con tutte le pasticche o comunque tutti i medicinali interni presenti, possibilmente anche con foglio illustrativo e che naturalmente verranno valutati da altri medici e altri farmacisti che ne certificheranno l'effettiva completezza e efficacia.